Musica Ancora guai per l'imprenditore accese Santo Massimino, i carabinieri del ROS di Catania hanno posto sotto sequestro sei aziende per un valore complessivo di 26 milioni di euro. Terme, così come per quelle di Sciacca, il presidente Crocetta sta per affidare l'azienda termale accese all'ASP nell'attesa del bando di gestione. Bosco di Aci, un sito protetto e inaccessibile, l'area boschiva che si sviluppa nel territorio di Aci Sant'Antonio resta inutilizzata. Ben trovati con Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale Spazio per la Corona Canera, a Giarre ancora un controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri. 8 le persone denunciate. Ad Aci Reale procede spedito l'iter per la demolizione dell'ecomostro sulla Timpa. L'assessorato regionale territorio e ambiente ha dato il via libera ieri all'istanza presentata dal comune per i lavori di demolizione, un'attesa che dura da quasi 40 anni. Il comune di Aci Reale intanto fa cassa, intende fare cassa procedendo alla vendita di due beni improduttivi per l'ente. Si tratta di un'abitazione e di un terreno e poi riflettori anche su Giarre a breve il bando per le licenze da assegnare a 15 nuovi conducenti di autovetture a noleggio. Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire con il sequestro operato dai carabinieri del ROS di Catania beni nella disponibilità dell'imprenditore accese Santo Massimino. Dopo la condanna in primo grado a 12 anni per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine Ibilis del 2010, adesso il sequestro di beni, sei aziende che operano nel settore dell'edilizia e nel campo della produzione di energie da fonti rinnovabili per un valore complessivo di 26 milioni di euro. I carabinieri del ROS e quelli del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro dei beni emesso dal Tribunale di Catania nei confronti dell'imprenditore accese Santo Massimino che avrebbe, secondo le indagini, concorso nella famiglia di Cosa Nostra Catanese quale imprenditore che metteva a disposizione del clan Santa Paola Ercolano la sua attività imprenditoriale in stretta connessione con l'allora rappresentante provinciale Vincenzo Aiello ed altri affiliati mafiosi di Rango. Sempre secondo le indagini degli inquirenti, così Massimino avrebbe usufruito della distribuzione di grossi lavori controllati direttamente o indirettamente dall'organizzazione criminale. Diversi infatti, come testimoniano anche le foto trasmesse dai carabinieri, gli incontri tra Massimino e Aiello nel 2007 in Contrada Sferro dove incontra anche il gestore del bar Antonino Bergamo condannato per associazione mafiosa con rito abbreviato. Tra i lavori effettuati dalla Nica Group di Massimino figurerebbero così il parco eolico dell'Enese e i centri commerciali Sicilia Outlet e Catanelli Gravina di Catania dove secondo le indagini durante i lavori, dopo un breve periodo che ha visto all'opera le gru di un altro imprenditore sono ritornati al lavoro i mezzi di Massimino proprio grazie all'interessamento di Aiello condannato successivamente alla pena dell'ergastolo e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici perché è ritenuto responsabile del duplice omicidio in parola di Angelo Santa Paola all'epoca considerato reggente operativo della famiglia mafiosa di Catania e del suo braccio destro Nicola XVI avvenuto il 26 settembre del 2007 8 persone denunciate e il bilancio dell'ennesima operazione di controllo straordinario del territorio effettuata dai carabinieri nel Giarrese con l'ausilio dei finanzieri della compagnia di riposto a Calatabiano denunciato una donna per furto aggravato aveva allacciato il contatore della propria abitazione alla rete elettrica a due persone invece denunciate sempre a Calatabiano per detenzione illegale di oggetti atti a offendere, armi da fuoco sequestrati due coltelli di genere vietato e una pistola Beretta calibro 22 una persona denunciata a Mascali invece per riciclaggio nel garage dell'uomo i militari hanno rinvenuto e sequestrato una Vespa 50 Piaggio risultata rubata a Fiumefreddo nel maggio del 2008 4 persone infine denunciate per guida senza patente controllate in totale 40 persone, 23 veicoli segnalate al prefetto 3 giovani di riposto e Santa Venerina per detenzione e uso personale di sostanze stupefacenti un incidente stradale questa mattina dai contorni spettacolari si è verificato ad Acideale poco dopo le 6.30 del mattino all'incrocio tra le vie Salvatore Vigo e San Girolamo sono venute in contatto tra loro una Citroen C3 che scendeva da via Salvatore Vigo e una panda medicalizzata che si immetteva in via Salvatore Vigo proveniente da via San Girolamo forse per il mancato rispetto dello stop da parte di quest'ultima le due automobili hanno violentemente tamponato tanto che la panda si è girata su se stessa finendo la marcia a testa in giù come si vede dalle immagini per fortuna malgrado l'impatto violento i due conducenti condotti al pronto soccorso per gli accertamenti del caso se la sono cavata con piccole escoriazioni e adesso le buone nuove provenienti da Palermo in merito all'abbattimento dell'ecomostro sulla Timpa ieri il decreto dell'assessorato regionale al territorio e ambiente procede spedito l'iter per la demolizione dell'ecomostro sulla Timpa che ormai da troppi anni, quasi 40, deturpa la riserva naturale orientata l'assessorato regionale territorio e ambiente ha dato infatti il via libera all'istanza presentata dal comune di Acireale per i lavori di demolizione dello scheletro di cemento dell'hotel Santa Maria La Scala così viene denominato di quel che resta insomma del progetto di un albergo extra lusso vista mare la cui costruzione iniziò negli anni 70 dopo un mese dalla firma della convenzione tra comune e assessorato regionali alle infrastrutture giunge dunque il parere dell'assessorato regionale territorio e ambiente e a giorni atteso anche il parere dell'azienda Foreste sui tempi il sindaco indica una data il 18 giugno, giorno in cui l'ufficio del Genio Civile ha convocato una conferenza di servizi con tutti gli enti in quella occasione si avvierà la fase operativa con la pubblicazione del bando di gara il percorso che conduce alla soluzione ormai dietro l'angolo commenta soddisfatto anche il deputato regionale accese Nicola D'Agostino la collaborazione trovata negli assessorati alle infrastrutture e territorio è esemplare come fondamentale il lavoro del Genio Civile di Catania siamo ad un passo da un risultato storico conclude D'Agostino che ha implicazioni e conseguenze che lasceranno il segno questo decreto è importante perché ci riduce i tempi in maniera netta riguardo alla non assoggettabilità quindi per l'assessorato territorio e ambiente si va avanti nella demolizione ci hanno dato delle prescrizioni che chiaramente sono inserite nel decreto adesso giorno 18 è stata convocata da parte del Genio Civile la conferenza dei servizi con tutti gli enti e quindi da allora si avvierà veramente la fase operativa quindi il bando per la demolizione delle comostre di fatto il progetto è pronto dopo 30 anni e forse più in giro di qualche mese stiamo arrivando a un risultato veramente eccezionale che ridarà veramente alla nostra timba alla bellezza che abbiamo sulla nostra timba un aspetto migliore sicuramente l'ecomostro sarà demolito e spero che si avvii tutto prima dell'estate però tra le prescrizioni dobbiamo anche verificare i periodi migratori degli uccelli quindi dovremo anche far conto con la natura ma devo dire anche giusto così lo sport ma quale sport tra impianti sportivi chiusi e altri sovraffollati tra società che sprangano i battenti e altre che invece si rilanciano vincendo lo scudetto questi gli argomenti che domani sera venerdì alle 21.10 tratteremo nel corso di città a città il nostro rotocalco settimanale sono questi gli argomenti che appunto vivacizzeranno il dibattito in diretta dai nostri studi a Cireale Sportiva quale futuro è il titolo della trasmissione che con ospiti in studio i protagonisti delle vicende agonistiche cittadine e gli interventi da casa dei tantissimi appassionati proverà a capire qual è la situazione dell'impiantistica sportiva ad Acireale nelle frazioni e quali sono gli obiettivi dei diversi sodalizi che praticano sport agonistico in città questo altro domani alle 21.10 in diretta da studio con Città a Città il dibattito anche quello sportivo parte da qui e adesso ci fermiamo pausa pubblicitaria a tra poco tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città a Città il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città tutti i venerdì alle ore 21.10 in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel online su Youtube e Facebook il dibattito parte da qui Ottica Grasso le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi Ottica Grasso ad Acireale nuovo ampio concept store in corso Italia 122 ad Aci Catena in via matrice 34 Ottica Grasso 34 anni Tottica Blu Bar Blu Gel Blu Bar New Felici di stare con te Al mare o in collina ti aspettiamo per deliziarti con le nostre produzioni Granite e gelati di tutti i gusti Dolci prelibatissimi Tavola calda ottima E se ti piace la siciliana puoi gustarla classica o speciale tutte le sere al Blu Bar New di Fleri Blu Bar a Stazzo a Cireale Mare Per chi ama il gelato Blu Gel a Zafferana Etnea Topolinia Infanzia accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini Alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna Esistono tre modi per insegnare col timore con l'ambizione con l'amore Noi rinunciamo i primi due La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto aule luminose salone conferenze teatro palestra laboratori pomeridiani Siamo aperti dalle 7.30 alle 19 oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita Topolinia Infanzia via Arcangelo Raffaele 2 a Cireale telefono 095 763 1645 Oragel un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria Oragel la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà preparandolo con cura attraverso antichi metodi per garantire la massima qualità Oragel ad Acireale in via De Amicis angolo via Alessandro Volta L'IRMA con l'adesione al principale CoreLab siciliano centralizzato ha ampliato la gamma degli esami specialistici il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio la consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto IRMA nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari l'IRMA fa parte delle otto strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'assessorato regionale per la salute New Service Clima vi informa che con l'apposito decreto regionale del Dipartimento dell'Energia è stato istituito il catasto obbligatorio degli impianti termici New Service Clima è accreditata per il controllo garanzia di regolare funzionamento di qualsiasi impianto di riscaldamento o climatizzazione al fine di poter essere catastato New Service Clima idraulica, termoidraulica, condizionamento, impianti gas metano e gas medicale installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria New Service Clima di Alfio Spinosa Via degli Oleandri 16 telefono 095 61 76 179 interventi rapidi per qualsiasi riparazione Everything taglia i prezzi e chiude Chiude il 50% di risparmio sui mobili e gli elettrodomestici in esposizione Everything cucine, camere da letto, divani, pareti attrezzate, camerette, armadi elettrodomestici di qualità 50% di risparmio vero Everything via Leonardo da Vinci, angolo via Pacinotti, AC Reale taglia i prezzi e chiude Le terme di AC Reale potrebbero riaprire a breve per l'effetto del temporaneo affidamento all'ASP l'azienda sanitaria provinciale Sentiamo Invece che acqua sulfurea forse un po' di acqua ossigenata Anche per le terme di AC Reale il governatore Rosario Crocetta pensa di avere trovato il palliativo cioè nell'attesa del bando internazionale con cui affidare la gestione delle terme ad un investitore privato ritiene che l'ASP possa in qualche maniera gestire il presente della struttura termale di AC Reale alla stessa strega di quanto proposto per le terme di Sciacca In entrambi i casi le due aziende termali regionali sono chiusa all'utenza e al collasso economico quella di AC Reale è messa ancora peggio perché incapace persino a saldare un debito con l'Enel luce tagliata e cancelli sbarrati sebbene proprio la regione avesse con una mano e cioè attraverso una legge garantito lo stanziamento di 400.000 euro per saldare le utenze e con l'altra mano, cioè con una nota dell'ufficio speciale per le liquidazioni dell'assessorato all'economia impedito l'erogazione dello stanziamento Nel mezzo le terme di AC Reale, l'antica e nobile storia dello stabilimento e l'attuale commissario ingegnere Luigi Bosco che come un piccione viaggiatore ha girato in lungo e largo tra i palazzi palermitani e poi romani in questo caso per concordare una specie di via d'uscita del debito di 8 milioni con un credit pur di aprire i cancelli di Santa Caterina Adesso si apre quindi una nuova pista che ipotizza l'ASP, cioè l'azienda sanitaria provinciale alla base del piano di riapertura forse minimale dell'azienda nella speranza di non perdere se non si fossero persi già i flussi turistici del benessere Il piano è questo, bisognerà capire se l'ASP riuscirà a soddisfare le attese Questo è il nodo della vicenda, al di là dello sfogo del Presidente che è dovuto scendere in causa personalmente pur di metterci una pezza A riposto, a partire dal prossimo 1 giugno per la durata di un anno sarà esteso l'orario di servizio dell'asilo nido comunale I genitori dei 30 bambini potranno così fruire del servizio attraverso un preciso calendario dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18 il sabato dalle 7.30 alle 14.30 Prefestivi di Natale e Pasqua e periodo compreso tra il 16 e il 31 luglio dalle 7.30 alle 14.30 Bosco di Aci, un sito protetto ma inaccessibile Vediamo Questa è la storia di un parco, costato 4 milioni di euro e oggi praticamente inaccessibile E' il parco del Bosco di Aci, 70 ettari quadrate di area boschiva nel territorio di Santa Maria la Stella, frazione di Aci Sant'Antonio Un'area salvata dalla speculazione edilizia negli anni 80 e poi trasformata appunto in parco suburbano su un suggerimento dell'allora consigliere comunale Enzo Dagata sposato poi dalla provincia di Catania La provincia ha acceso un mutuo per acquistare l'area nel 2000 e poi nel 2010 emanò un bando per la realizzazione di sentieri di muretti in pietra lavica e per la ristrutturazione delle case Boscarino una vecchia masseria abbandonata e vandalizzata Costo dell'operazione 4 milioni e 400 mila euro I lavori aggiudicati da una ditta grigentina furono consegnati nel 2011 Restavano da fare il bando per gli arredi interni delle case Boscarino e quello per la sorveglianza il primo mai neanche fatto per carenza di soldi il secondo emanato e poi ritirato per un errore burocratico La sorveglianza venne così affidata alla Multiservizi in attesa di un bando per l'affidamento in gestione di tutta l'area Bando emanato nel 2013 vinto da una cooperativa che però presentò un progetto considerato inadeguato per un sito di interesse comunitario o SIC come il Bosco di Aci Ad oggi dunque il parco suburbano resta chiuso per accedervi bisogna seguire un iter complicato inviando un fax alla ex provincia e specificando i motivi per cui si vuole accedere al parco stesso motivi che devono essere confacenti a un sito SIC ovvero valorizzazione dell'ambiente, della flora e della fauna del luogo o studio altrimenti il rischio è quello di vedersi risposto di no come è accaduto alla parrocchia propria di Santa Maria la Stella che voleva portare i bambini nel parco a far volare gli aquiloni e se prima con una certa elasticità il sito veniva concesso anche scout e croce rossa oggi con l'arrivo del nuovo commissario per la ex provincia di Catania le possibilità si sono ridotte in sintesi quindi la ex provincia disloca del personale della Multiservizi a fare la guardia a una struttura vuota al solo scopo di evitare atti di vandalismo ma la struttura non utilizzata comincia già a deteriorarsi e tra l'altro il personale tutto dislocato alle case Boscarino lascia completamente privi di sorveglianza gli ingressi del parco sistematicamente violati da runners, cacciatori e chiunque altro voglia impunemente introdursi all'interno del bosco l'ultimo tentativo di fare aprire il bosco di Aci risale al gennaio scorso quando l'ex consigliere provinciale Enzo Dagata chiese l'apertura del sito almeno nei weekend non ci sono soldi per garantire il servizio è stata la laconica risposta degli uffici il parco insomma rimane off limits mica male come risultato per un'opera costata 4 milioni e mezzo di soldi pubblici a Giarre il dirigente della quinta area del comune Maurizio Cannavò ha approvato lo schema di bando di concorso per titoli per l'assegnazione di 15 nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente sino ad ora nel comune di Giarre sono state rilasciate 5 autorizzazioni per l'esercizio di questa attività e sono rilasciabili altre 15 autorizzazioni così come previsto dal regolamento per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente approvato dal Consiglio Comunale nel mese di luglio dello scorso anno all'albo pretorio è stato quindi pubblicato il bando con l'indicazione dei requisiti richiesti entro 30 giorni gli interessati vi possono partecipare il Consiglio Comunale lo scorso anno aveva fissato a 20 il numero di autorizzazioni dopo aver ricevuto diverse richieste da parte di persone interessate a svolgere questa attività e adesso ci occupiamo invece della mozione recentemente votata in Consiglio Comunale ad Acireale sulla tutela degli animali questa mattina presentazione ufficiale della stessa nel Palazzo del Turismo dopo l'approvazione la presentazione questa mattina nella sala conferenza del Palazzo del Turismo alla presenza del Sindaco Barbagallo del Presidente del Consiglio Raneri dell'Assessore Pietro Paolo e del Coordinatore di Acireale Bene Comune dato che ha contribuito nella stesura del Regolamento Cittadino per i diritti degli animali la Consigliera Comunale Francesca Messina ha illustrato alla stampa i punti fondamentali della mozione che il Consiglio ha approvato all'unanimità la mozione tutela degli animali nel Comune di Acireale che come detto avvia un percorso che porterà il Comune a redigere un regolamento per l'affidamento dei cani ricoverati presso il rifugio sanitario Oasi Cisternazza incentivando, questo uno dei punti salienti, l'adozione tramite un rimborso spese e apposite campagne di promozione come ci conferma la Consigliera Francesca Messina In particolare si punterà sul dare un contributo a chi adotterà i cani del rifugio sanitario è un contributo che verrà alla durata di 5 anni e questo comporterà un risparmio per il nostro ente oltre a migliorare la qualità della vita dell'animale che verrà adottato altri punti importanti saranno la collaborazione con l'ASP per le sterilizzazioni nel presidio di Nesima collaborazione con le associazioni animaliste e individuazione di nuove aree di sgambamento nelle zone centrali della città e possibilmente anche l'individuazione di un cimitero per gli animali di affezione La mozione, come già ricordato, comprende anche un atto di indirizzo che prevede la realizzazione di un'area di sgambamento cani da affidare ad un'associazione di volontariato cittadina qualificata Una tematica questa già presente sul territorio visto che, come opportunamente ricordato dai consiglieri Valentina Pulvirenti e Francesco D'Ambra esiste già sul territorio accese un'area di sgambatura cani curata dall'associazione sportiva dilettantistica Dogland che opera a Santa Maria Malati come ci ricorda la presidente dell'associazione Elisa Sgarlata Sono contenta comunque che ne stiano facendo di altri perché Dogland non potrebbe ospitare tutti i cani che ci sono ad Ecireale Io comunque volevo ringraziare Valentina Pulvirenti e Francesco D'Ambra per aver ricordato che esiste già una realtà consolidata Già noi abbiamo fatto tante manifestazioni a favore di questi animaletti che comunque abbiamo fatto il Dogfest abbiamo fatto la giornata della benedizione dei cani la giornata del microchip e adesso ne abbiamo una che si chiamerà Dogs Got Talent che sarà il 28 di giugno e dopo questa ce ne saranno anche altre Adesso è tempo di fermarci ancora spazio alla pubblicità torniamo subito Al caffè Garibaldi c'è lo sbarco dei mille mille buonissime produzioni artigianali per chi ama gustarsi un momento dolce un gelato una squisitezza dalla tavola calda una granita più più se avete tempo fermatevi in piazza Garibaldi 33-34 ad Acireale c'è il nuovo caffè Garibaldi se non avete tempo vi aspettiamo a pranzo tutti i giorni nel ristorante al piano superiore o per una pericena ricchissimo servito al tavolo elegantissimo spazio riservato alle mamme e ai loro piccolini salette per la degustazione servizio catering ad Acireale in piazza Garibaldi 33-34 e io sono già arrivata al grande albergo Maugeri di Acireale speciale cerimonie prima comunione, cresima o per qualsiasi evento da festeggiare un ambiente elegante con un servizio a 4 stelle e raffinati menu antipasto, bis di primi, secondo, contorno, torta, vino, spumante e acqua a partire da 28 euro ristorante del grande albergo Maugeri per info 095 60 86 66 ad Acireale in piazza Garibaldi 27 all'interno del grande albergo Maugeri Audio Jump Tomarchio Ottica e Fotografia è un negozio OXO 100% ottici optometristi ad Acireale Corso Italia 18A e B Apri la tua valigia e mettici dentro il mondo puoi farlo con un briciolo di fantasia e con Scuto Viaggi e Turismo per l'estate 2015 grandi promozioni e super felicità prenota subito Scuto Viaggi rivenditori ufficiali biglietteria Expo Milano biglietteria aerea navale viaggi organizzati villaggi, crociare con nuove quote e itinerari ancora più affascinanti Scuto Viaggi e Turismo via Caronda 11A Acireale info 095 763 20 07 prenota adesso scopri lo straordinario mondo dell'Expo la Euroform Servizi Formativi informa i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni che sono aperte le iscrizioni ai corsi del piano di attivazione regionale del programma nazionale Garanzia Giovani questi alcuni profili tecnico informatico acconcetore estetista social media manager esperto in lingue dei paesi emergenti competenze web per info e iscrizioni Euroform Servizi Formativi via Martinez 5 a Cireale telefono 095 80 00 26 o www.euroformacireale.it Colora di primavera la tua casa e il tuo giardino da Vivai Patanè migliaia di piante e vasi della miglior qualità e al miglior prezzo Stupendi Gerani a 1,50 euro tutte le stagionali a 35 centesimi sui vasi sconti fino al 60% queste coloratissime fioriere a 1,99 euro fioriera gigante 13,99 euro vuoi scoprire di più? vieni a trovarci il sabato e la domenica area giochi per bambini con animazione Francesco diciamolo bene festa di primavera e vivai Patanè tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città tutti i venerdì alle ore 21.10 in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel online su Youtube e Facebook il dibattito parte da qui il comune di Acireale ha avviato le procedure per alienare due beni non ritenuti produttivi per l'ente vediamo il comune di Acireale prova a fare cassa tagliando due beni che risultano improduttivi per l'ente certamente non si tratterà di grosse somme sempre che vi sia la possibilità di alienarle ma comunque si tratterebbe pur sempre di somme che andrebbero ad impinguare il bilancio sono due i luoghi sui quali è stata posta attenzione c'è un'area di 50 metri quadrati e poi ancora una unità immobiliare sita nella frazione di Santa Maria Ammalati in via provinciale 377 naturalmente quello che riveste maggiore attrattivo è quest'ultimo risulta composto da due vani più un piccolo locale dotato di servizi esigenici a una superficie complessiva di 40 metri quadrati e il tutto è ubicato a piano terra con ingresso autonomo posto sulla via provinciale l'immobile citata appartenendo al comune inserito in un corpo di varie unità abitative contigue realizzate negli anni 50 per le famiglie colpite dagli eventi sismici verificatisi nella zona le citate abitazioni sono state tutte messe all'aste e vendute già alcuni anni fa tranne quelle in esame in quanto dal comune utilizzata come delegazione municipale l'importo attribuito come valore di vendita ammonta 32.500 euro per quanto riguarda invece l'area di 50 metri quadrati presente in via Castagneto sempre a Santa Maria Ammalati l'ufficio tecnico ha stimato il suo valore base in 3.750 euro in questo caso dovrà essere effettuato il frazionamento e su di essa l'Enel ha richiesto l'autorizzazione per la posa di una cabina elettrica sull'argomento l'assessore al patrimonio Alessandro Oliva ha sostenuto come il tutto rientri in un piano di razionalizzazione delle disponibilità dell'ente che di concerto con il dirigente dell'ufficio tecnico comunale ingegnere Salvatore Bella ha visto l'effettuazione di un censimento delle opere non utili all'ente che hanno anzi dei costi come nel caso dei cosiddetti relitti viari presenti qui e là E adesso ci occupiamo della tappa mattutina dell'annunciata rappresentazione teatrale Due Lune Si chiama Due Lune lo spettacolo portato in scena stamattina al liceo statale Regina Elena di Aciriale dagli alunni del laboratorio di teatro sociale dell'istituto 25 ragazzi diversamente abili che per tutto l'anno si sono messi al lavoro dalla sceneggiatura alla recitazione coordinati dalla professoressa Pina Pulvirenti e dal responsabile del dipartimento teatro Razio Caruso un progetto di creatività ed inclusione che ha appassionato i ragazzi Il teatro sociale rappresenta il coronamento di un anno di attività però con il cumulo di altri tre anni precedenti di manifestazioni è chiamato così perché lo scopo non è quello di fare spettacolo e lo scopo è quello di includere permettere alle persone diverse di vivere insieme alle cosiddette persone normali un'esperienza creativa l'esperienza creativa che noi proponiamo è una drammaturgia è una rappresentazione teatrale ed è l'occasione più propizia perché ognuno manifesti quello che dentro di sé pensa di poter esprimere e farlo tutti insieme docenti alunni diversamente abili alunni normodotati personale ATA con un impegno di un anno di lavoro e poi coinvolgere i genitori alla fine dell'anno è una cosa meramente bella meravigliosa una creatività concreta il teatro sociale durante l'anno si svolgono delle attività per circa 40 ore queste 40 ore sono suddivise in tre parti la prima parte facciamo la socializzazione il momento del gruppo dopodiché passiamo alla seconda attività che è quella della creazione drammaturgica della scrittura creativa mentre il terzo momento è quello della rappresentazione della performance che abbiamo oggi la specialità del teatro sociale è che parte tutto dal nulla praticamente tutto il copione le sceneggiature sono state fatte dai nostri ragazzi i nostri ragazzi diversamente abili sono stati coaduati da dei tutor in tutto sono 25 ragazzi e per tutto l'anno lavoriamo insieme questo oggi è il momento culminante che rappresentiamo la performance che è Le Due Lune e insieme all'attrice e all'aspetto esterno Yvonne Guglielmino con la collaborazione del Dipartimento di Pedagogia Sociale così i ragazzi hanno potuto sperimentare l'ideazione la creazione e la messa in scena di uno spettacolo teatrale che rientra nell'ambito del progetto La Giungla Sociale 3 rispetto agli attori normali normali in quanto adulti in quanto professionisti i ragazzi hanno risposto benissimo questo spettacolo narra di un ragazzo Marco che vuole fare l'eroe come lo fa tramite il sogno e loro stessi sono stati giorno dopo giorno step by step a creare la storia un po' con il disegno un po' con la canzone un po' con la danza un po' con la recitazione hanno creato quello che oggi andiamo a mettere in scena tramite il gioco ovviamente perché il teatro è to play giocare e l'hanno fatto e si sono divertiti questa è la cosa più importante avrà inizio domani il secondo torneo internazionale Etna Player Memorial Enzo Berti riservato alle categorie Pulcini ed esordienti a 11 le partite dei Pulcini Proffa avranno inizio alle 9 nei campi Playa in Viale Kennedy a Catania i Pulcini 2006-2007 hanno la stessa formula e le gare inizieranno alle 15 nei campi di San Giovanni La Punta in Via Duca degli Abruzzi infine per la categoria esordienti a 11 le gare si disputeranno nei campi comunali di Mister Bianco e Biancavilla con inizio alle ore 9 tra le squadre partecipanti troviamo l'Atalanta la Lazio il Calcio Catani il Crotone e il Trapani il torneo ha avuto già lo scorso anno molto successo e come detto è dedicato alla memoria di Enzo Berti ex calciatore professionista che si è tolto la vita nel marzo del 2013 è stato l'ex calciatore della Juventus Alessandro Birindelli ad aprire ufficialmente il secondo torneo internazionale di calcio giovanile Etna Sud nella magnifica cornice del Palmento Arena di Ragalna l'attuale responsabile del settore giovanile del Trapani ed ex giocatore di Juventus e della Nazionale Alessandro Birindelli ha avuto l'onore di essere testimonial del torneo che vede in campo 16 tra le migliori formazioni giovanili di Sicilia e Calabria con la presenza anche di una formazione maltese proveniente da La Valletta alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina sono intervenuti i partner istituzionali del torneo tra cui a Cireale rappresentata dall'assessore allo sport Francesco Carrara dopo la presentazione tutti in campo per il fischio d'inizio delle partite già questo pomeriggio 8 quelle in programma per la prima giornata del torneo al Tuparello alle 18 va in scena Trapani-Cosenza alle 16 a Tracastagne Real-Cosenza-Mussomeli in contemporanea a Pedara Atena-Agrigento-Ragusa gli altri campi impegnati per il torneo sono Belpasso-Ragalna e Masca-Lucia domenica 31 maggio invece alle 10 al campo comunale di Viale-Regina-Margherita ad Acireale triangolare di calcio in memoria del compianto Santo Karate mai dimenticato ad Acireale triangolare di calcio categoria giovanissimi con Reallaci Trecastagni e Canicatti nel pomeriggio poi alle 16 triangolare allievi tra Reallaci Pianeta Catania e Canicatti squadra allenata da Paolo Moncado a cui verrà consegnata una targa di riconoscimento altre targhe saranno consegnate alle squadre partecipanti e al figlio del compianto Santo Karate Filippo ovviamente in omaggio alla sua memoria andiamo a chiudere e lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani cielo sereno o poco nuvoloso venti deboli da ovest e temperature stabili minima di 15 massima di 22 gradi mari quasi calmi e tutto anche per oggi vi ricordo come sempre la nostra pagina facebook per rivedere i nostri notiziari per farci avere le vostre segnalazioni etnaespresso channel trattino tg reporter appuntamento con il nostro notiziario a domani alle 13.40 arrivederci a domani